Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Calenzana e Bp1 variante in direzione di Bologna. In Cipili sale a 2 km la coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra nella carreggiata in direzione mare. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Da domani, 9 giugno inoltre, 9 treni regionali veloci fermeranno anche a Empoli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, segnaliamo ritardi e variazioni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di Ponti a Elsa. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!